Doveva essere celebrata il 30 giugno del 2022, invece il Tribunale di Genova ha deciso di anticipare di ben sette mesi la prima udienza del processo che vede sul banco degli imputati i due aretini, amici di Vanneschi ed Albertoni, Enrico D'Antonio e Federico Basetti, accusati di false dichiarazioni. Secondo la Procura di Genova, infatti, quanto è dichiarato dai due al PM Biagio Mazzeo il 17 dicembre 2013, due anni dopo la morte di Martina Rossi, avrebbe avuto lo scopo di boicottare le indagini. Il processo era stato sospeso in attesa di quello principale, adesso però il Tribunale ha deciso di accogliere l'istanza presentata dal PM e dall'avvocato della famiglia Rossi, Stefano Savi, che permetterà di accorciare i tempi. In questo modo, infatti, il dibattimento potrebbe svolgersi già nei primi mesi del 2022. Secondo la ricostruzione dell'accusa, i due ragazzi di Castiglion Fibocchi, amici di Albertoni e Vanneschi, quella tragica notte del 3 agosto 2011 si trovavano all'interno della Camera delle Amiche di Martina. La studentessa Ligure poi precipitò all'alba dal sesto piano dalla finestra della stanza occupata da Vanneschi ed Albertoni, condannati poche settimane fa nel processo d'appello bis a tre anni per tentata violenza sessuale di gruppo.